I dati sono stati importanti, dimostrano il nostro impegno su tutti i fronti. Voglio ricordare l'attività congiunta con la Capitaneria di Porto e con i colleghi di Lei Guiglia proprio svolta ieri mattina sulle spiagge per reprimere quelli che sono gli accampamenti abusivi e altri tipi di servizio, abbiamo detto contro il commercio abusivo, contro il degrado urbano, il controllo dei parchi, dei giardini pubblici e poi tutto quello che è la viabilità ordinaria, la garanzia di una mobilità urbana ordinata. I dati ci dicono che negli ultimi due mesi abbiamo rilevato 18 sinistri stradali in città con anche la luce delle nuove riforme normative sull'omicidio stradale. Le indagini ci impegnano anche nelle fasi successive del sinistro, quindi insomma è anche il personale sotto pressione, sappiamo, l'abbiamo detto più volte, delle ristrettezze degli organici, però insomma possiamo dirci soddisfatti. Voglio rimarcare ancora una volta la collaborazione con tutte le altre forze di polizia perché appunto in periodi storici di urginia è necessario per svolgere al meglio il proprio lavoro. Grazie.